Musica Ciao ragazzi, eccoci qui a una nuova video-scensione allargata a VR Magazine Oggi vi vogliamo presentare un'applicazione molto semplice e molto veloce da guardare che ci metterà a disposizione dei template per iBooks Stiamo parlando di Design for iBooks Author Cos'è iBooks Author? Innanzitutto è praticamente l'applicazione gratuita da parte di Apple per creare gli iBooks quelli che poi dopo troviamo su iBooks Questo non è altro che un'applicazione che mette a disposizione dei template quindi non c'è grande cose da dire se non che abbiamo alcuni gratuiti che sono due tanto anche per vedere poi dopo come vengono realizzati e 15 template divisi in blocchi da 5 che invece sono probabilmente, come potete vedere, a 2,69€ Per quelli bloccati facendo un doppio tap possiamo andare a vedere com'è la presentazione, come verrà realizzato o quali sono i template messi a disposizione per questo tipo di template stessi altri 5 li troviamo qui, come potete vedere sono delle immagini ovviamente che non sono molto rappresentate bisognerebbe avere comunque la possibilità di avere maggiori dettagli per poterli valutare ma comunque tornando a noi, questi sono i template a disposizione nel momento in cui avessimo scelto o acquistato comunque uno dei tre pacchetti che l'autore mette a disposizione per poterli utilizzare è veramente molto semplice basta avere installato iBooks Auto a quel punto basterà fare un doppio clic e questo verrà automaticamente, eccolo qui, come potete vedere aperto all'interno di iBooks Auto e da qui poi potremo andare ad effettuare tutti gli inserimenti e le modifiche che vogliamo perché potremo andare a modificare ovviamente il titolo, il testo classico l'ora in ipsum, dollar, sit, appert questo è il classico che poi viene sempre messo anche quando creiamo siti o roba del genere è possibile ovviamente di inserire le immagini quindi è praticamente un template però dopo poter essere utilizzato per la creazione finale del nostro libro anche perché automaticamente, come potete vedere, viene utilizzato iBooks Auto quindi nessun tipo di problema andare a visualizzare ovviamente l'anteprima ma questa è tutta l'applicazione il secondo template invece che viene messo a disposizione gratis ovviamente anche in questo caso basterà un semplice doppio clic diciamo molto più vacanziero possiamo dire quindi un tema molto più semplice da poter andare ad aggiustare e modificare ovviamente per quello che ci interessa questa è l'applicazione che vi volevo mostrare quindi come dicevo molto semplice e molto veloce perché non altro che dei template per iBooks Auto era più che altro ecco l'integrazione, il funzionamento all'interno di iBooks Auto che possa appunto garantire che i template acquistati possano funzionare con l'applicazione rilasciata da Apple stesso detto questo non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima ciao